Mezzanotte 58, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Oggi Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, è stata a Roma per riconsegnare il piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dalla Commissione. È stata ricevuta in un luogo importante e simbolico per l'Italia e per la nostra cultura. Cinecittà. È un giorno di orgoglio, dice Mario Draghi. L'opportunità di una vita, ribatte Ursula von der Leyen. La cornice dove oggi la Presidente della Commissione Europea ha staccato virtualmente l'assegno da 191 miliardi e mezzo di euro è simbolica e suggestiva. Cinecittà, la fabbrica del cinema, simbolo di un sogno a portata di mano, con stime di crescita del 2,4% e la creazione di almeno 240 mila nuovi posti di lavoro. Ce la faremo assicuro il Presidente del Consiglio, ma la sfida è solo all'inizio. Ora bisogna spendere tutto, bene e onestamente. Più che una maratona, una corsa ostacoli lunga cinque anni, che prevede centinaia di obiettivi da raggiungere entro il 2026. E ogni ostacolo che cade è una trancia di fondi che si sblocca. Si parte dalle riforme, condizio sine qua non dell'intero progetto. Il disegno di legge delega per la riforma degli appalti e delle concessioni, la legge sulla concorrenza e la riforma della giustizia. La volontà politica di non fallire si vede, dice Mario Draghi, che già intravede i primi 24 miliardi e 900 milioni. Una cifra enorme dal peso di un'intera finanziaria. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava prima la vita di stenti delle famiglie, poi una crescita prodigiosa. Io spero che questa sia l'alba della ripresa, una ripresa significativa, duratura, con al centro l'inclusione sociale e la sostenibilità, dice Mario Draghi, che non dimentica i giovani e le donne, il futuro di un'Italia in trasformazione all'insegna dell'innovazione tecnologica. L'Italia ha firmato all'ultimo momento una lettera voluta da 13 Paesi membri dell'Unione Europea contro l'Ungheria, che condanna questa lettera la nuova legge voluta da Orban contro la cosiddetta propaganda gay verso i minori. È successo in Lussemburgo, al Consiglio Europeo per gli Affari Generali, dove si attendevano chiarimenti sulla legge che discrimina in base agli orientamenti sessuali con la scusa di proteggere i bambini. Chiarimenti che dall'Ungheria non sono arrivati, che hanno spinto i 14 a scrivere una condanna verso un paese che, come ha detto anche von der Leyen, sembra allontanarsi sempre di più dai valori europei. Intanto la Commissione sta analizzando il testo per valutare se questa famosa legge sia oppure no in regola con il diritto europeo. È stata consegnata lo scorso 17 giugno, ma si è saputo solamente oggi, una nota definita e informale da parte del Vaticano che chiede di rimodulare alcuni punti del disegno di legge Zan. La legge, che è stata approvata a novembre alla Camera, è ancora ferma al Senato, ha spaccato i partiti e lo stesso deputato Zan ha detto che quanto è accaduto è stata una forzatura. Lo ha detto stasera al nostro telegiornale. Il Vaticano prende ufficialmente posizione sul disegno di legge Zan contro la homotransfobia e affida ad una nota il suo intervento, sostenendo che la nuova normativa potrebbe violare il concordato tra Stato italiano e Santa Sede del 1929, rinnovato nel 1984. Nel testo si spiegano le ragioni secondo le quali la Chiesa chiede al Governo di intervenire per una rimodulazione del disegno di legge, ora in discussione in Senato, per renderlo compatibile con quanto stabilito dal concordato. Mario Draghi dovrebbe parlarne proprio domani, nel corso del suo intervento in aula, in visto del Consiglio europeo, anche se la questione posta dalla Santa Sede, si fa notare a Palazzo Chigi, è prettamente parlamentare. Intanto sul disegno di legge Zan nella maggioranza si acquiscono le tensioni dopo l'intervento del Vaticano. Se il segretario del PD difende il testo e aggiunge «Aspettiamo di vedere la nota del Vaticano e di leggerla con attenzione», per il centrodestra l'iniziativa ad oltretevere è una conferma alle proprie critiche verso il DDL. Ad iniziare da Salvini, che da settimane fa ostruzionismo al Senato a colpi di audizioni infinite, e ora chiede una revisione del provvedimento. Dalla sinistra e del Movimento 5 Stelle nessun dubbio a definire un'ingerenza alla nota vaticana. Il deputato Zan, ospite del nostro TG, difende la sua proposta e dice «C'è stata una forzatura da parte del Vaticano, non ci sono obblighi, ma si prevede solo la possibilità di creare programmi scolastici contro le discriminazioni, non solo sessuali. Pensiamo al bullismo». Ieri, dopo il via libera del CTS, il ministro Speranza ha confermato, poi ha annunciato, che da lunedì prossimo non sarà più obbligatoria la mascherina all'aperto. Dalla prossima settimana tutti in zona bianca. Mancano solamente le discoteche. I locali da ballo probabilmente potrebbero riaprire ai primi di luglio, osservando però determinate regole, green pass, tracciamento e contenitori per pasti e bevande monouso. Il primo segnale d'apertura arriva dal sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Le discoteche potrebbero riaprire entro i primi dieci giorni di luglio. Una deadline che adesso dà speranza all'unica categoria che non ha ancora una data decisa per le riaperture e che adesso, a giorni di distanza dalla consegna delle linee guida per una ripartenza in sicurezza, chiede però certezze in pista solo col green pass, tracciamento di tutti gli ingressi, contenitori monouso per le bevande e le regole per il ritorno delle sale da ballo con il 4 luglio, il primo weekend in Unitalia che sarà tutta in zona bianca Val d'Aosta, inclusa come data chiesta dai gestori. Sul tema dovrà però dare il suo parere il comitato tecnico-scientifico che ieri di fatto ha risposto alla richiesta del governo sull'uso delle mascherine all'aperto. Lunedì prossimo, dopo l'ordinanza firmata oggi dal ministro, speranza sarà obbligatoria indossarle solo al chiuso sui mezzi pubblici dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale, un ulteriore obbligo che cade anche grazie a una curva pandemica che continua la sua discesa. Oggi i contagi sono poco più di 800 con l'indice di positività che scende lo 0,4%, la percentuale più bassa dall'inizio della pandemia. I decessi accertati sono 31, mentre prosegue la diminuzione dei posti letto occupati sia nei reparti Covid che in terapia intensiva. Ci sono paesi invece dove il virus continua a correre e a colpire. Uno di questi paesi è il Brasile. Finora sono morte più di mezzo milione di persone. Oggi c'è stato un altro record negativo. 2.131 le vittime e 87.000 contagi. I contagi dall'inizio della pandemia sono più di 18 milioni in Brasile. Il presidente Bolsonaro, anche lui colpito dal Covid, però continua il suo atteggiamento negazionista. Ha dato la colpa alla stampa per aver istillato nell'opinione pubblica l'idea che l'idrossiclorochina non sia efficace. Dopo essere stato attaccato duramente dai giornali per aver tentato di raggiungere l'immunità di Greggia attraverso una sorta di selezione naturale, Bolsonaro ha perso la calma e ha insultato i giornalisti accusandoli di comportarsi come gestori di pompe funebri che vanno in estasi davanti ai milioni di morti. L'associazione della stampa brasiliana ha definito il presidente un pazzo allucinato e ne ha chiesto le dimissioni. Insomma, una situazione veramente ormai al limite, quella che si sta vivendo in Brasile. Adesso parliamo del calcio e del calcio che si sta giocando in Europa. Vediamo come sono andate oggi le partite delle fasi eliminatorie. Si è qualificata l'Inghilterra 1-0 contro la Repubblica Ceca, che è stata promossa come terza. Allora, scusate, ho sbagliato. Prima giornata degli europei, qualificazioni Inghilterra 1-0 contro la Repubblica Ceca, promossa come terza. Croazia, grazie al 3-1 della Scozia, così funziona. Intanto non si spengono le polemiche sull'ipotesi avanzata ieri da Mario Draghi di spostare da Londra le semifinali e la finale a causa dell'aumento dei nuovi casi di Covid dovuti alla variante Delta in Gran Bretagna. Anche Angela Merkel ha espresso preoccupazione e ha invitato Boris Johnson alla prudenza. Ma il governo britannico ha confermato che si giocherà a Wembley, anzi ha rilanciato. La capienza dello stadio aumenterà sino ad oltre 60.000 spettatori. Ma il braccio di ferro è destinato a continuare nei prossimi giorni anche in base all'andamento dei contagi nel Regno Unito. C'è da aggiungere che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità nutre serie dubbi su questa finale con il pubblico così copioso all'interno dell'impianto. È l'1.07, noi ci fermiamo qui. L'informazione come sempre torna domattina. Arrivederci, buonanotte. Grazie.